Sono felice, sono felice perché da noi vengono tante persone a giocare e questa è un'occasione bella. Abbiamo dato un po' di felicità a qualcuno, è una bella cosa. Questa attività da quanto è aperta? Da tantissimi anni ma non ci siamo da 11, quindi è una gran bella cosa. Quanto ha speso la persona che ha vinto un milione di euro? Allora da quello che risulta a noi è una schedina di 10 euro, quindi è una giocata di un sistema di 10 euro. In genere comunque a questo gioco si può giocare un euro e si può vincere un milione di euro. Non glielo sappiamo dire perché questa è una ricevitoria di passaggio per cui tantissimi avventori ci sono che giocano, tante persone che passano giornalmente, quindi non abbiamo idea di chi sia.